A Salerno ieri consiglio provinciale con la presidenza della seduta affidata eccezionalmente al vicepresidente Carmelo Stanziola anziché al presidente in carica vista l'indisponibilità a causa del covid distrianese. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno tra cui anche la dotazione dei presidi ospedalieri che insistono sul territorio provinciale di macchinari idonei a processare celermente i tamponi. Come da proposta del vicepresidente l'intero consiglio provinciale all'unanimità si è espresso a favore della proposta presentata al punto 5 affinché l'ente provincia si faccia promotore presso l'aslo di Salerno per la dotazione dei presidi ospedalieri di Sapri, Sarno e Battipaglia del macchinario per la diagnosi molecolare rapida a supporto in particolare degli operatori sanitari in questa fase di emergenza covid. Una richiesta che inizialmente includeva l'ospedale di Rocca d'Aspide nel frattempo però già individuato come destinatario di un nuovo apparecchio in fase di acquisto dopo la diatriba venutasi a creare con l'ospedale di Polla a cui è stato poi assegnato il macchinario. Data quindi la conferma del prossimo arrivo a Rocca d'Aspide del macchinario molecolare su proposta anche dei consiglieri provinciali approvata si è deciso di virare l'attenzione su Battipaglia. Altro punto all'ordine del giorno anche la nomina del membro del Consorzio di Bonifi Cavallo di Diano e Tanagro come delegato della provincia di Salerno all'interno del Consiglio dei Delegati dell'ente consortile in sostituzione del dimissionario Gianfranco Cavallone che ha lasciato il suo posto all'interno dell'ente lo scorso gennaio per motivi personali. La scelta del delegato dell'ente consortile valdianese così come dei tre delegati del Consorzio Destrasele avvenuta tramite voto pur essendo al dodicesimo e tredicesimo punto all'ordine del giorno sono stati rinviati come ultimi argomenti prima della chiusura della seduta. Al termine quindi dell'approvazione degli oltre 70 punti si è proceduto con la scelta dei delegati. La scelta della maggioranza come nuovo membro del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro unice ad aver diritto al voto sulla questione è ricaduta su Nicola del Negro con voti unanimi della maggioranza ossia 11 su 11. Tra gli altri temi è anche la questione sollevata dal Comitato Pendolari del Vallo di Diano con la provincia di Salerno che si è fatta promotrice di sollecitazione verso il Comune di Battipaglia, la Regione Campania e Ferrovie dello Stato di individuare al più presto soluzioni più idonee e agevoli per i pendolari valdianesi costretti a lunghi tragitti a piedi tra la stazione e la fermata del bus sostitutivo.